Il mondo gravel, perdersi in mezzo ai sentieri, in mezzo a un gretto di un fiume, in mezzo alla collina, all'appennino, bello eh! Ma se vi succede qualcosa, cosa fate? Mandate la posizione alla vostra moglie, al vostro marito? Il compagno o la compagna vi diranno, sì sei su strada, mi mandi la posizione in tempo reale e vengo a prendervi. Ma se siete in mezzo al nulla, come diavolo fa? Oggi andiamo a vedere cosa portare con voi nelle tasche della piena e soprattutto attaccata alla vostra bici, attrezzi, cose di scorta, smagliacatena, insomma non vi spoilerò tutto. Cosa vi serve per andare in giro da soli con la vostra gravel? Nuova puntata, Endu Channel School of Gravels. La cosa più comune che capita quando andate in bici, come problema meccanico logicamente, è la foratura. Quindi cosa succede? Bucate una gomma per una spina, per una pizzicata, perché avete preso un marciapiede come dei maledetti. Ora, cosa fare in caso di foratura? Beh, innanzitutto che cosa utilizzate? Qui ho una gomma tubeless, vuol dire che non c'è dentro la camera d'aria. Ci sarà una valvola là sotto che in caso di foratura va svitata, soprattutto se ci mettiamo la camera d'aria. Ok, roba semplicissima, roba che si vede da 100 anni, molto facile. Beh, insomma, innanzitutto vi consiglio di portarvi delle leve per tirar via il copertone, perché tubeless o non tubeless va tirato via. Togliete la valvola, controllate con la vostra manina che non ci siano delle spine nella gomma, pardon, in questo caso le togliete. Dopodiché mettete la camera d'aria, richiudete tutto, questi li lasciamo giù, aria, beh, la conoscete tutti, no? Praticamente è una bomboletta di CO2, la attaccate alla valvola, che questa volta sarà della camera d'aria e non del tubeless, con la vostra vetina la svitate e gonfiate. Consiglio molto molto importante, non tenete mai troppo forte con la mano la vostra CO2, perché? Perché praticamente diventa freddissima e vi rimane la mano incollata, poi salutate così con la mano attaccata alla bomboletta e non va bene. Quindi aprite, svitate e tenete la conduritina oppure con il guanto. Vi chiederete, ma come la tiro giù? La ruota che non c'è, il quick release, quindi la leva per tirarla giù. Con il multi-tool portatevelo sempre, praticamente un po' di brugole, una torque, perché adesso serve quasi sempre, delle brugole un po' più grandi, un cacciavitino, qui c'è un taglio, un cacciavite a taglio, quindi tutta roba che vi viene utile e vi serve per tirar via la ruota che poi va riavvitata. In alternativa, ragazzi, se non volete metterci la camera d'aria, che comunque è un po' sbatta, ma alle volte vi salva, se il buco è piccolino potete utilizzare un'altra cosa. La schiuma e il fast. Questo affare qui, ragazzi, è una schiuma, voi la agitate e glielo piantate dentro bene, con la valvola aperta, perché poi voi bucate e magari lo fate con la valvola chiusa, bordello, schiuma dappertutto. È molto comodo, ma dovete utilizzarlo in modo intelligente. Primo, ci deve essere una foratura piccola e secondo, ragazzi, svitate bene e infilatelo bene, altrimenti la schiuma va dappertutto e sembrate Babbo Natale ad agosto, non va tanto bene. Una volta che ci avete infilato la schiuma, fate girare un po' la ruota, così la schiuma si distribuisce. Un po' come il lattice nella vostra gomma tubeless. L'avete messo il lattice? Vabbè, importante. Sfreccia, vola, corri, respira, nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni, hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cettilar Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore, con Cettilar Nutrition. Piccolo tip sul multitool. Ci sono un botto di chiavi? Sì, controllate che siano giuste per la vostra bici. Ci sono 3-4 cose. Il manubrio, molto molto importante, quindi queste viti e queste per chiudere. Adesso tante bici hanno la torsia, non tutti i multitool ce l'hanno. Logicamente, le chiavi delle ruote sono quasi sempre giuste. Certo, se ci fosse anche quella del pedale, non è male. In alcuni casi vi aiuta, quindi controllatelo prima di partire. Last but not least, anche se in realtà abbiamo qualche altro pezzo e abbiamo qualche altro tip, lo smagliacatena. Lo smagliacatena serve perché se per qualche sfortunato motivo, fortunatamente col gruppo Shimano non succede. Ma se succede, con questo aprite la catena, la smagliate e potete rimagliarla. Quindi andrà un pochettino accorciata. Magari nel caso in cui rompiate un pezzo di catena che dobbiate accorciarla molto, non utilizzate i rapporti quelli più leggeri perché la catena poi rimane tanto in tensione e se il vostro meccanico l'ha fatta bene, e sono sicuro che l'abbia fatta bene, se poi è troppo corta rischiate di tirar su tutto. Altro sito importante sulle forature, i vermicelli. Ora, io non sono capace di utilizzarli, quindi non vi posso dire come si fa, ma se voi andate sempre su One2Channel dal mio amico Simo Tartana, sicuramente lui vi farà capire come utilizzare queste cose, a cosa servono. È abbastanza semplice, in realtà è un piccolo vermicello che va inserito dove c'è il buco nella gomma, poi lo chiudete e fate tutto, insomma, andate a guardarlo dal Simo, non sono la persona giusta. Vermicelli Simo Tartana in Two Channel, lui vi dice come si fa. Cosa invece, non voglio dire che vi sconsiglio di portare dentro le vostre borse, ma vi consiglio di portare nella schiena, Beh, gelino, barretta e smanicato, gillerino, giacchettino leggero. Ma perché? Perché uno, se avete fame lo pigliate al volo, e due, se vi cappottate, non succede, ma se succede, qui dietro è morbido. Quindi se, nel caso di caduta, logicamente, si appoggiate nella schiena, è sempre meglio non averci il multitool, o magari lo smagliacatena, che ci sono dei pezzi di ferro, di metallo, che comunque possono farvi male. Quindi, dietro, robe comode, barrette, gel, smanicatino, e all'interno delle borse della nostra bici, tutti gli attrezzi che, come vi abbiamo fatto vedere, sono utili nel caso di uscita in bici. Cosa che non ho portato in questo momento, ma anche possono risultare utili, soprattutto se fate un giro più lungo, se andate in Marocco, se andate in Norvegia, se state in giro giorni in bicicletta, o uscite molto, molto lunghe, in mezzo a nulla, beh, qualche fascetta aiuta sempre. Ricordate che con le fascette si viene sempre a casa. Il nastro isolante o il nastro americano, che sono sempre comodi, magari fate una piccola rotellina, ce ne mettete un po' e ve lo mettete, appunto, all'interno delle vostre borse. Sono cose molto, molto utili quando succedono imprevisti che possono succedere strani, strambi. Quindi, ecco, con queste due piccole accortezze, secondo me, siete a posto e potete andare ovunque. Questo è quello che porterei io, che porto io con la mia bici per andare a fare i miei giri. Tu, invece, ehi, viewer di Endu Channel, cosa porti con te? Fammelo sapere. Soprattutto sei uno più adventure che porta anche, tipo, il coltellino infilato dentro perché si mangia la mela che prende per strada? Oppure sei uno super grezzo che si porta proprio le due o tre cose elementari? Pensate che io ho degli amici che si portano un'intera officina. Pastiglie dei freni, forcellino. Chiaro, col GRX, devo dire la verità, siete abbastanza tranquilli perché è robusto ed è fatto apposta per tirare col grave. però capisco e ho visto situazioni in cui tante cose possono succedere. Quindi, come dar torto ai miei amici che si portano l'intera officina? A me piace andare leggero, abbastanza comodo. Quindi, spero vi sia piaciuta la puntata su Endu Channel di School of Gravel. Vi abbiamo dato qualche tip su cosa portarvi. Logicamente ci sono tante altre cose che si possono portare con voi. Siamo alla fine di questa puntata, ma le gambe come stanno andando? Vi state allenando? No, perché qui le puntate vanno avanti. Quindi vi aspetto alla prossima qui su Endu Channel con School of Gravel. Se vi siete allenati andiamo avanti con i tips, andiamo sempre più veloce. Ci aspettano puntate in cui si dà veramente del gas. Iniziamo a gasare. Ciao, raga! Ciao, raga!